Ciao YouTube! Gabriels, aiuto YouTube! Oggi parliamo di pompe di calore e aria-acqua, c'è anche il potente Stefano! Guardiamo le tre unità esterne, in funzione, sono tre su YouTube Adam, questa è la prima unità, la seconda e la terza che fa da master. Sono splittate e idroniche. Sotto si può vedere l'acqua di condensa, sono le ore 16 circa, e anche per oggi questo è tutto. Ciao ciao!